Tu, tu sei un pazzo scatenato, Sarri, tu sei un folle, sei fuori di testa, ma come cazzo fai a lasciare in pantina dall'inizio Milinkovic Savic? Perché tu pensavi, gioco con la Salernitana e vinco sicuro, faccio un po' di turnoff e penso all'Europa League, ma tu, ma tu sei un somano, ma sei un asino, cazzo. Io, tu mi fai perdere anche al fantacalcio, pensa te che cazzo fai combinando un casino che, poi ho detto, in porta provvedere, perché tanto, dopo la Salernitana, ho detto, metto in porta provvedere. Poi Milinkovic Savic, cazzo, metto Milinkovic Savic, il giocatore più forte di tutti, prende giallo e mi va male. Tu mi fai perdere al fanta, testa di cazzo, ma poi a parte tutto, gli avversari non si sottovalutano. Tu hai in mano la Lazio, non hai 20 giocatori per poter fare il turnover, ma soprattutto tu hai un unico giocatore che è un fenomeno assoluto, il miglior giocatore del campionato italiano, a mio avviso, Milinkovic Savic. Se lo sostieni, se non lo metti in campo dall'inizio, ti cambia letteralmente la squadra, la partita. Tu non stai bene nella testa, salve. Cazzo, settimana scorsa ti ho elogiato come uno dei migliori allenatori, cioè anzi, il miglior allenatore dopo ovviamente il mio Piolino, che sai che io lo amo. E oggi mi fai una cazzata del genere, mi scendi di classifica. A me poi mi va comodo che la Lazio perda, anzi, è giusto, sono anche contento se la Lazio perde per la corsa alla zona Champions. Però cazzo, tu mi fai incazzare, salve. A me, a oggi, conta anche il fanta. Gioco contro mio fratello, mi fai perdere. Faffanculo, salve, mi hai fatto incazzare. Per fortuna che fra poco gioca al Milan. E spero che mi farà godere come un porco. Sempre forza mia.